Ok, ringraziamo tutti i cornuti che sono qui con noi a guardare questo schifo di te in missione, grazie, 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 ha reso brutti i bastardi, cominciate a guardare, cazzo, eh. Bene, non si è con una posibilità in tv nazionale, porca vacca, pittanozza, che tu sei uno scemo bastard, porca schifono, ma io vi ho il cipo di te, la rapida. Porca troia, sta imbazzendo, qual è sicuro di stagione che lo fa impazzire? Grazie a tutti